Ciao di cruttini, ciao di cruttini, di nuovo, ciao 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 E questo sarà un video Instagram Chalk Molto carino perché consiste nell'andare a casa del mio Instagram, del mio profilo Instagram E la foto che esce, insomma, sarà la foto che vi spiegherò Comunque, qua dobbiamo aprire la porta perché sennò non vuoi prendere il Wi-Fi Eccoci, questo è il mio profilo Instagram, sono lena4lan200 E niente, iniziamo subito ad andare Io non vedo assolutamente una mazza, quindi tranquilli, è puro questo video Bah, via, questa qua, la vedete? Io no? No, non la vedete manco voi Eccola! Bene, è bellissima Allora, è questa foto con Alessandra, la mia carissima amica E sotto ciò ho voluto scrivere, resta perché sei tutto ciò che può calmare un mare in tempesta Dunque, perché questa situazione e perché questa foto? Questa è una foto che abbiamo fatto a casa di un'amica, Gaia E mi ricorda, insomma, l'amore che ho per la mia comitiva E per Alessandra soprattutto Che è un'amica con cui quest'anno veramente mi sono attaccata tantissimo È quasi un anno che abbiamo questo rapporto È iniziato quest'estate, l'estate del 2016 E non lo so che è successo, ma ci capiamo subito Ci conosciamo da tantissimi anni, ma mai abbiamo legato così tanto E quindi è bello, è tutto molto bello E la citazione è perché lei mi ha aiutato a fare il cartellone per il compleanno del mio ragazzo E c'era questa frase sopra, quindi ci accomuna un po' Ed è una foto molto carina allo specchio Noi ci facciamo un sacco di foto allo specchio Via! Adoro sto video, veramente, mi piace tantissimo E spiegarvi un po' com'è la mia vita, tipo All'infuori di Youtube Allora, ricaricare Ecco ovviamente la wifi, ecco Bene, è questa fotografia qua E qui, insomma, vi spiego L'incontro che volevo fare a Piazza del Popolo Questa foto me l'ha fatta Davide, un mio carissimo amico E c'era questo giorno che siamo andati in questa pineta E abbiamo iniziato a fare tutte le foto Tutte le foto Non era una pineta Era un prato, qui nel mio quartiere Dove c'era questa quercia Sotto questa quercia abbiamo iniziato a fare un sacco di foto Quelle ha fatte lui e a me soprattutto E niente, è un bel ricordo Perché quella giornata è stata molto bella Era l'inizio delle scuole Quindi era settembre Quindi era ancora con la serenità dell'estate E dopo sono molto legata a quella foto Perché ho fatto questo servizio fotografico All due, sono divertentissima a fare queste foto Poi mi piaceva molto come ero vestita E poi ha un significato speciale Perché comunque vi spiego dell'incontro E quindi sì, quell'incontro alla fine è andato molto bene Bene, andiamo anche un po' più giù Questa Ha un significato assurdo Penso che l'estate meglio di questa non l'ho passata Quindi fra sinceramente indietro non ci tornerai mai È una foto fatta il 4 agosto Lui ci stavamo sentendo già da prima Da un po' prima Sentendo Erammo molto vicini Come persone Ecco E è successo che quest'estate Lui alla display mi è venuto a trovare E è rimasto anche da me a dormire E non lo so, è nato qualcosa È nato qualcosa Quindi poco dopo ci siamo messi insieme Quindi questa è l'estate dove è nato qualcosa E penso che l'estate meglio di questa non l'ho passata Quindi fra sinceramente indietro non ci tornerai mai È bella come frase Perché lui si chiama Francesco Quindi fra Anche se vuoi di fratello In realtà nella canzone E poi questa canzone è la nostra prima canzone 60 giorni di noi È tutto nato l'estate Quindi sì Poi Giù Su Giù Su Giù Su Questa La vedete? Io no Ah è Ok Questa è una mia amica Jackie Ci sono donne e donne Diciamo che eravamo uscite insieme E abbiamo iniziato a fare le coattissime Perché eravamo vestite da coatte E ci siamo Apo questa felpa tra l'altro E ci siamo iniziati a fare queste foto Sotto casa Proprio coattissime E quindi ho messo sta frase Ci sono donne e donne Per simboleggiare quanto coatte eravamo E quindi Era un giorno che ce la squattavamo E è stato carino Quindi Ci siamo divertite Veramente tanto E quindi basta È importante per me Perché comunque è stata una giornata bella Della nostra amicizia Bella Sono state tutti i giorni insieme Poi Questa qua Si caricherà B Ah no Ragazzi Aiuto Che ho fatto Casino Un casino Ho fatto Ecco Ok Eccola Questa è una foto con Alessia Quest'estate È molto bella Secondo me Ci tengo tantissimo E c'è scritto Se guarda davanti ti fa paura E guarda dietro ti fa soffrire Guarda accanto a te Lì ci sarò io E per me è importante Perché era la prima uscita Dell'estate Di quell'estate Mi ha invitato al mare È stato troppo divertente Siamo andati su questa piscina Con il ponte Ho fatto pure il vlog E Che si chiama Si ricomincia Nel senso l'estate Ed è stato veramente divertentissimo Che ho fatto qualunque cosa Lì Era a Maccarese Ed era bellissimo E Che mi ricorda Io adesso con Alessia Ci sono sempre amica Ma un po' mia Comunque Ci siamo un po' Divise Però comunque Molto spesso mi manca Come eravamo prima Quindi Sinceramente È una bella foto Perché è stata scattata poco prima Che non ci siamo viste più E che l'amicizia Si è andata un po' a sfumare Per me però È stata un'amica Che c'è stata per un anno Bello intenso E c'è sempre stata Quindi quando avevo bisogno di lei Quindi Per me è importante E basta Poi Su e giù Su e giù Su e giù Su e giù Qui Mettiamo questa Sono tutte abbastanza vecchie Questa Non ho spinto niente Allora andiamo un pochino in su Questa Questa foto È bellissima Era Ferragosto E ci ha scritto Vi porto via con me Questa notte è fantastica Perché è stata la notte più bella Di tutta l'estate Messa insieme Abbiamo fatto questo fallo Con la comitiva Erano venute tutti alla Dispoli Dove stavo io Quindi i miei amici di Roma Che vengono da Dispoli per me Per fare un fallo È stato fantastico Prima avevo preso la legna Con i miei amici del mare Ed era venuto anche Francesco Prima E poi È stato il mio primo bacio Con Francesco Ferragosto Davanti ai fuochi d'artificio È stata veramente La serata bellissima A ballare Andiamo a comandare Stavamo morendo Delle risate E quindi sinceramente C'ho solo bei ricordi E basta È stato sto fallo Che era la fine del mondo L'ultima E poi basta Questa Beh Quale foto Mi poteva venire Di più bella C'ho scritto Per ogni giorno Un istanto Ogni attimo Che sto vivendo Grazie mille Perché Perché È tutto grazie a loro Questa foto l'ho fatta Mentre stavo già pensando All'idea di fare un tatuaggio Su di loro E infatti l'ho fatto Sta qui E basta Sono dei miei genitori Cioè Non c'è molto da spiegare Grazie mille Di ogni attimo Che sto vivendo Perché Mi avete dato l'opportunità A voi Di vivere ogni attimo Della mia vita Mi avete dato la vita E credo sia il regalo Più grande Che potessero farmi E quindi niente Questo era il video Spero vi sia piaciuto Rifatelo anche voi Perché adoro scoprire Queste cose Della vita delle persone Attraverso le foto Bello È bello Secondo me è un bellissimo Instagram tag Molto meglio di quello Quelle domande Cioè Proprio una cosa Da esprimere E niente Detto questo Spero che questo video Vi sia piaciuto Qua Della è tutto Un bacio grande Ciao